Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi sono stanchissimo, ho seguito ovviamente tutto lo Showcase Xbox, mi è piaciuto molto. Scusate se sentite rumori di sottofondo ma perché ho l'impianto di... il condizionatore acceso altrimenti mi sciolgo a quest'ora, veramente, fa veramente caldissimo in questi giorni. Quindi, allora, allo Showcase Xbox è stato mostrato Doom The Dark Ages, quindi ragazzi era confermato già da prima, era stato liccato il titolo, il titolo è quello. E ne analizzerò anche il fatto del perché si chiama The Dark Ages mentre vedremo il video, però sappiate che essendo un teaser di due minuti non posso tirar fuori chissà quante cose. Spero che poi il mio parlare eccessivamente mi conoscete, a volte sono estremamente logorroico quando parlo e mi soffermo, anzi vado persino oltre certe cose. Ok, voglio dirvi subito questa cosa, non mi è piaciuto il fatto che nello Showcase Xbox è uscito scritto soltanto per PC e Xbox, ok? Questo gioco che doveva uscire così, invece no. Se andate a vedere adesso questo trailer qui dice, esce per PC, per Steam, per PS5, per Xbox Series X, non Series S. Attenzione, quindi non ho idea se magari poi in futuro lo faranno uscire anche lì. Non me lo chiedete se ci sarà un port della versione Switch perché non ne ho idea assoluta ragazzi, purtroppo non lavoro per id Software, non ne ho idea. Quello che sto vedendo è che mentre sto reactando a tutto questo addirittura il counter dei like continua a salire, quindi immaginatevi quanto sono contento. Allora, il trailer inizia con la frase, prima che diventasse un eroe, ok? Prima che diventasse un eroe, come sapete ci sono quegli architemporali lunghissimi dove purtroppo si dovevano fare dei fumetti, quando appunto è stato fatto Doom Eternal, Hugo Martin ha rivelato in alcune interviste che poi, se volete andarvela a vedere, sono bellissime, dove lui praticamente ti porta per mano la difficoltà a Nightmare soprattutto, attraverso tutto il gioco e ti spiega le varie cose che sono successe durante lo sviluppo di Doom Eternal. Quello che è accaduto è che purtroppo, se vi ricordate, Doom Eternal è uscito in un periodo molto particolare, ovvero era appena scoppiata la pandemia. E secondo Hugo Martin, dei periodi di tempo che nel gioco non sono molto chiari di Doom Eternal, che oppure io nei video di lore che ho fatto vi ho ripetuto questa cosa, Hugo Martin avrebbe voluto affidare a qualche casa di sviluppo o a qualche, letteralmente tipo alla Marvel o alla DC, la produzione di fumetti che raccontassero questi eventi, cosa dovrebbero narrare. Cosa è accaduto? Queste idee probabilmente sono state prese, messe tutte insieme e poi praticamente è uscito fuori un gioco. Quindi qui quando siamo ambientati, dove siamo, nel trailer si vede già lo Slayer con il manto da re, quindi già è diventato reggente, direi Novik. Però il Before He Became a Hero mi fa pensare, perché questa è una cosa un po' discordante, io credo che questo periodo qui sia il periodo esattamente dopo che lo Slayer diventa effettivamente una sentinella della notte. Perché dovrebbe essere appunto il periodo della Stella Nera, quando c'è la vigilia della Stella Nera e lo Slayer inizia ad avvisare gli Argenta del pericolo che sta per incombere. Infatti quello che vedo è che molte delle armi che vedremo nel trailer sono estremamente dal look molto arcaico. Non so se posso rendere l'idea. Comunque, ho già parlato per 5 minuti senza far vedere un cavolo, andiamo bene Davy? Allora, prima che diventasse un eroe era la più grande arma degli dèi e dei re, quindi probabilmente qui vedremo anche persino la caduta di Taras Nabad e come lo Slayer poi la riconquista. Sarebbe fighissimo. Queste sono le montagne del DLC 2, non mi ricordo come si chiama, dove praticamente c'è la lancia del mondo. E qui appunto quella città lì, ve lo posso confermare io vedendo questa cosa qua, adesso che la vedo bene, questo dovrebbe essere Taras Nabad. Dovrebbe essere Taras Nabad perché questo è l'obelisco di Taras Nabad, dove praticamente all'interno c'è il crogiolo. Quindi sì, probabilmente vedremo la caduta di Taras Nabad. Bellissimo. Sì, ragazzi, no, vabbè, no, aspetta, 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 non è Taras Nabad questa. Non è Taras Nabad questa, questa è la statua di Exultia. Questa è Exultia, quindi? Ah, hai capito, sì, perché questo è l'inizio di Exultia, quando tu salti il ponte. Ma che figo. C'era anche un palazzo così a Exultia, non ricordo bene. Boh, forse sarà un'altra città. Comunque avete visto comunque che le strutture di Exultia e di Taras Nabad si somigliano, perché erano appunto di formazione argenta. Questo è un luogo che non ho idea di cosa sia. Sembra una delle mappe Deathmatch, perché l'ha giocato, di Doom 2016. Una delle mappe del regno di Urdak, però questa non è Urdak. È palesemente non Urdak. Vabbè, semplicemente lo Slayer all'interno della camera di Taras Nabad che riceve i... Ah, quindi qua è il momento in cui lui riceve i poteri. Fighissimo. Guardate il look dell'armatura dello Slayer. Riprende molto quella di Doom 2016, questa roba qui. Ciò vi fa capire che l'armatura del 2016, come era scritto appunto nei testi di lore di Doom 2016, per chi se ne andate a leggere un pazzo appunto come me, probabilmente qui vedremo anche quel miserabile, il miserabile, si chiama proprio il miserabile, che gli ha fatto l'armatura. Perché questa è l'armatura di fattura argenta, lo vedete? Anche se la tecnologia di sotto non è di fattura argenta, palesemente. Per chi se lo sta chiedendo comunque no, ragazzi. La musica è palesemente non è Mick Gordon. E non è per niente Mick Gordon, questo sarà di nuovo Andrew Walsholt, sicuro. Comunque questo è la doppietta. Però avete visto che la doppietta... non mi pare che sotto abbia il rampino. Quindi sì, il motivo principale del perché Hugo Martin aveva detto limiteremo il movimento del Doom Slayer in questo gioco, era vero, era vero. Perché già questa cosa qui di non avere il gancio sotto la doppietta e potersi liberare in aria, già mi fa pensare che sia molto più pesante il movimento dello Slayer. Poi vedremo dopo, però comunque vi do le mie impressioni adesso a caldo. Però l'aggiunta di uno scudo è fighissima, perché adesso tu puoi letteralmente, adesso probabilmente pergliare tutto quello che vedi. Il vestito è quasi regale, però vi posso assicurare che c'erano anche degli sketch di alcuni soldati che non erano del regno degli ascesi, che poi diventeranno i marauder, ma quelli che appunto rimangono fedeli alle sentinelle della notte e che avevano lo stesso tipo di vestiario. Mi sembra che persino il comandante Vale non lo avesse, quindi... Ma quindi fammi capire. Quindi questa sarebbe la Fortezza del Destino prima della Fortezza del Destino. Ma che figata! Ovviamente ragazzi, lo Slayer per subire una caduta del genere e non morire deve avere già con sé i poteri dati da Samurmaker, ma proprio sicuro. Allora, non c'è l'HUD. Interessante. Allora, di fronte abbiamo... Purtroppo c'è molto blur in questi gameplay. Non ho idea del perché sia per mascherare qualche cosa, ma secondo me semplicemente le impostazioni di come è stato... Allora, qui come potete vedere sulla destra, c'è una sorta di grilletto che prima la doppietta... Anche qua c'è una sorta di grilletto che la doppietta non aveva. Probabilmente ci sarà anche la modalità per sparare da una sola canna. Questo me lo immagino già. In più qui lo scudo sarà probabilmente sempre visibile mentre noi portiamo l'arma in mano. Vedete com'è l'HUD così? Cioè abbiamo sempre lo scudo su. Questo è un Mancubus. È un Mancubus proprio vecchio stile. Non è come quelli che abbiamo visto sia in Eternal che nel 2016. Questo è proprio un Mancubus. Bello. E mi sorprende soprattutto che il dettaglio della distruzione qui avviene dopo un solo colpo di doppietta. Quest'arma non ho idea di che cos'è perché non è la maker. Ragazzi, ho visto qualcuno che ha scritto nei commenti che non è la maker. Non è la maker. Perché quest'arma letteralmente... Se controllate bene, adesso nel gameplay, mentre quest'arma sta sparando, praticamente si tritano questi teschi che sono al suo interno per sparare delle schegge addosso. Quindi non ho idea di come si chiami. Bello che puoi caricare lo scudo e puoi lanciarlo a tipo wing stick di Rage. Non so se l'avete mai giocato il primo Rage. Probabilmente qui l'azzardo, questo sarà il nostro fucile d'assalto. Lo dico qui perché gli Argenta non avevano quel tipo di tecnologia dei mirini. Quindi probabilmente questo sarà il nostro nuovo fucile d'assalto. Questo è un Revenant, palesemente un Revenant, ma proprio 1-1. Questo qui non ho idea di chi sia. Non ho per niente idea di chi sia. Come vedete c'è l'Arachnotron. Qui viene confermato che possiamo alzare lo scudo per parare i colpi. Fighissimo. Dietro, chi caspita è quel coso che vola? Non sembra un cacodemone. Sembra più... Boh... Un essere tentacolare. Queste sono le paludi del sangue prima che diventassero le paludi del sangue. Rendetevi conto di dove stiamo tornando. Questa è un'altra arena del DLC 2. Però comunque da un punto di vista diverso. Anzi no. Anzi no. Che cosa sto dicendo? Allora questa qui... Queste sembrano le paludi del sangue però quella faccia lì mi pare che ci fosse... Su Necravol. Forse? Ditemelo voi nei commenti nel caso. Però mi pare che fosse uno dei concept di... Di software. Che ci fosse... La città dei morti Necravol praticamente. Dovrebbe essere questa. I cancelli sono quelli. Oddio. Le guie non sono quelle. Però... Mi pare di sì. Mi pare che questo palazzo qui dietro pare proprio quello di Necravol. Magari siamo dall'altro lato. Perché ricordiamoci che poi Necravol aveva anche quella... Quella sorta di collegamento con Urdak. Quindi probabilmente potremmo anche giocare il momento in cui... Gli Argenta scoprono che dietro tutta questa invasione demoniaca ci sono... I Maker. Fantastico. 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 Allora io non è che voglio dire... Ogni volta che pare Tarasnabad. Però ragazzi... I fuochi mi ricordano quello. Cioè... Che devo fare? È l'unica zona dove veramente c'erano sti fuochi qui. In più questa... Purtroppo o è Exulti o è Tarasnabad. Due sono le cose. Non c'è... Uno o l'altra. Quest'arma sembra tipo... Il lanciapaletti di Painkiller. Ma hanno veramente messo una cosa così in Doom. Ma non perché non mi piaccia. Eh... Assolutamente. Solo che... Questa... Senza un mirino richiederà ancora più precisione. Vedremo delle figate pazzesche. Soprattutto da parte di Zero Master. Allora. Su quest'arma qui. Perché vedete? Impala persino questi nemici qua. Tra cui... Questi nemici qui. Vabbè. Questi sono Hell Knight palesi. Questo... Chi vi ricorda sto nemico? Vediamo se siete bravi. Ragazzi. Toglietegli la parte di sotto. Mettetegli una sorta di slitta che vola. Questi sono i cacciatori Agaddon. Noi qui stiamo affrontando i cacciatori Agaddon. Prima che... Come si chiama? Il secondo sacerdote li prendesse e li facesse diventare i Doom Hunter. Questi sono i cacciatori Agaddon, ragazzi. Perché venivano descritti come dei soldati creati apposta per sconfiggere lo Slayer. Quindi devono essere per forza loro. Anche le corna me lo ricordano tantissimo. Ma sì, guarda, guarda, guarda. Sono loro. Sono loro. C'hanno anche quella cosa sul petto. Sono i cacciatori Agaddon. Allora, io sta cosa quando l'ho visto ho detto Ma che caspita sta succedendo? Veramente usiamo anche uno degli Atlanti. Perché questi si chiamano gli Atlanti, letteralmente. Vengono usati contro i demoni maggiori. E questo dovrebbe essere un altro assedio da qualche parte. E non ho idea di questa struttura dove sia. Perché sembra molto più futuristica rispetto a tutto il resto che abbiamo visto. Non ho idea di questo che cosa sia. Ma credo che sia qualcosa che possiamo controllare noi. E in effetti sì, perché poi ce lo fa vedere giustamente, scemo Davi. Un caspita di drago volante. Ragazzi, ma vi rendete conto dove siamo arrivati con sto franchise? Cioè, voi dite queste cose. Ma se non ci fosse stato Doom Eternal che univa tutte le timeline di tutte le cose. E metteva ordine sulla storia. Noi queste cose qui ce le saremmo potute sognare. Purtroppo non c'è una data, però ci viene detto che arriverà nel 2025. Quindi dovremmo aspettare ancora un anno. Mi raccomando, tenete duro ragazzi. In più, guardate, questo trailer qui conferma il fatto che non è esclusiva Xbox. Ah no, c'è anche per Series S. Non è esclusiva Xbox. La paura che tutti quanti avevano è, ma adesso Bethesda è finita in mano a Microsoft. Quindi adesso... Ragazzi, mettetevele in testa. Doom è uno dei pochi franchise che sin dai suoi albori, sin dal primo su PC, non è mai stato esclusivo a PC. È sempre arrivato sulle console, in un modo o nell'altro. L'unico che veramente ha dato un po' di problemi su quello era Doom 3. Però anche Doom 3, dopo un po', è anche arrivato sul console. Quindi, rendetevi conto. Adesso, questo io lo prenderò sicuramente per PS5, perché non ho il PC per reggere tutta sta roba. Non ho il PC per reggere Doom Eternal, figuratevi se posso reggere questo. Su Steam non ho visto la pagina aperta, quindi non c'è ancora nessuna notizia, né di quanto costa il pre-order, né di quanto costa niente. Il grande assente di qua è la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, però, io credo che prima o poi arriverà anche su Nintendo Switch. Non sulla Nintendo Switch 1, magari sulla Nintendo Switch 2, che stavano facendo il famoso potenziamento, no? Speriamo che lo facciano. Ragazzi, questo è tutto. Mi sono dilungato per 18 minuti, scusate. Però, almeno, finalmente possiamo dirlo. Ragazzi, cavolo, finalmente siamo tornati a parlare di Doom su sto canale. Ho letteralmente usato di tutto, ho fatto di tutto sul Doom Eternal. Davvero, ho portato di tutto. Ho portato la Batmall, i single player, i contenuti di lore, tutto. Tutto quello che ho potuto fare l'ho fatto sul Doom Eternal. Finalmente potermi lanciare sul nuovo videogioco di questa saga mi fa molto piacere. Una cosa che però mi fa meno piacere, questa la dico, io mi sarei aspettato che il prossimo titolo di id non fosse Doom, ma fosse Quake. Quake, per l'ennesima volta bistrattato il figlio della serba. Che vogliamo fare, ragazzi? Purtroppo non siamo noi a decidere. Per il momento Doom continua a vendere, va molto forte, quindi loro spingono su questo. Mi sembra giusto. Speriamo che in futuro prendano anche Quake, perché anche Quake si merita un caspita di risorgimento come l'ha avuto Doom. Perché dal 2016 che adesso Doom ha iniziato veramente a carburare pesante di nuovo. Però mi dispiace per Quake, perché oltre alle due remastered non si è più saputo nulla, pure di quel messaggio che c'era sulla lavagnetta. Probabilmente è anche in sviluppo, ma non lo sappiamo, non abbiamo nessuna idea. Quindi ragazzi, io per il momento concludo il video qui. Sono contento per l'ennesima volta che ci sia ancora qualcosa di cui parlare. Fra poco il conteggio di like arriva a 89.000. Però mi raccomando ragazzi, adesso abbiate pazienza, perché lasciateli liberi di creare. Perché sono sicuro che il gioco adesso è nelle fasi di sviluppo già avanzato. Però mi raccomando, quando vedete qualcosa di questo videogioco, non lo so, non fatevi prendere dai treni dell'hype. Nel senso, io sono contentissimo di quello che ho visto. Perché Doom of the Dark Ages è un bel titolo, però per l'ennesima volta, vi ripeto, non è per Doom. Caspita, io mi chiamo Davy Doom, nel nome del canale. Avrei voluto un Quake, semplicemente. Però è arrivato un altro Doom. Lo accettiamo a braccia aperte. Mi raccomando ragazzi, continuate a fare quello che state facendo. Siete fantastici, mi avete taggato non so quante persone sotto sto video. Poi l'ho anche ripostato sulla pagina della community, sulla community Telegram. Quindi andate tranquillo. Quando ci saranno nuovi trailer da reactare, speriamo di essere ancora qui, a vederli subito. Altrimenti aspettate qualche giorno che poi vi faccio la reaction più, magari, fatta meglio. Però nel caso che li faccio così, le react adesso. Anche perché mi rendo conto che voi volete questo tipo di contenuto. Ok, basta così Davy, non continuare perché veramente... Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale. Grazie a tutti.